Musica Amici di Atisport24, benvenuti ad una nuova puntata di Wheel to Wheel Abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi il giornalista di Ottava Marcia, Francesco Fontana Ciao Francesco, bentornato, è un piacere averti in nostra compagnia Ciao Andrea, ciao a tutti gli spettatori, è un piacere mio ritornare qui e grazie ancora per l'invito È veramente un gran piacere Allora, gara movimentata a Baku, tante le emozioni Ti inizio a chiedere, credi che Hamilton abbia usato troppo al momento della ripartenza O è giusto che abbia tentato di vincere la corsa? Credo che abbia usato troppo, soprattutto un pilota con la sua esperienza Nella sua posizione, soprattutto per il ritiro di Verstappen Hamilton poteva benissimo accontentarsi del secondo posto Ha voluto fare la staccatona per superare Perez Che già a sua volta ha frenato il più tardi possibile Il risultato è stato che si è trovato ultimo e fuori dai punti Quindi un errore non da Hamilton, ma un errore che rischia di pesare per la classifica piloti Perez si dimostra un pilota solido e affidabile Porta a casa la vittoria Al netto del successo, credi che sarà determinante il suo contributo nella corsa al mondiale? Assolutamente sì Vevo già detto in passato che la presenza di un secondo pilota Red Bull forte Potesse essere una delle migliori armi per mettere in difficoltà Hamilton E oggi la prestazione di Perez è stata assolutamente superlativa E se dovesse riuscire a replicare queste prestazioni nelle prossime gare Anche nel diversificare le strategie sarà un'ottima arma per mettere in difficoltà Hamilton Bottas invece non ha praticamente detto la sua in nessuna gara fino ad ora E si è probabilmente reso all'idea che non gli verrà rinnovato il contratto Bottas è in grandissima difficoltà È dietro alle Clerc nella classifica piloti E le sue gare, insomma, a parte a Monaco dove aveva attivato fuori una grande qualifica Le sue gare sono spesso anonime Se Bottas è in grande difficoltà probabilmente c'è anche una grossa componente psicologica Dovuta alla consapevolezza appunto che la vendura in Mercedes volge al termine E io ti chiedo Un pilota in queste condizioni psicologiche come giustamente sottolineavi tu E diciamo apportatore di un contributo alla causa non significativo Potrebbe essere determinante nel corso della stagione però in negativo Vale il discorso posto a quello che ho fatto prima per Perez Quando si è in 1 contro 2 Si ha una difficoltà nello gestire la diversificazione delle strategie Abbiamo visto anche quello che è stato il problema di Verstappen a Barcellona Che non poteva fermarsi perché se no sarebbe finito dietro a Bottas Non avrebbe avuto la possibilità o comunque sarebbe stato molto difficile Sorpassarlo in pista E questo ha costretto Verstappen a rimanere fuori Quindi se Bottas dovesse continuare con queste prestazioni che vanno incalando Per Hamilton sarà una difficoltà in più perché si troverà da solo Contro i due Red Bull Sempre ammesso ovviamente che Perez vada bene E lancio una provocazione che riprende in parte una considerazione dei due cronisti di Sky E' plausibile pensare a una sostituzione in corso di annata? Guarda ti convesso che io l'ho pensato nello stesso momento poi in cui ne hanno parlato i cronisti di Sky Perché insomma le voci su Russell si fanno sempre più insistenti Però anche insomma un po' conoscendo come hanno ragionato sempre i Mercedes fino ad ora Poi il futuro non lo conosce nessuno Però credo che si vada fino a fine anno con Bottas Che insomma anche a Monte Carlo ha fatto vedere che la zampata riesce comunque a piazzarla Si cercherà probabilmente di recuperarlo tra virgolette dal punto di vista psicologico E di sfruttarlo nelle piste magari a lui più congeniali Mi piace sottolineare il notevole lavoro veramente una mole enorme Svolto da Sebastian Vettel nelle ultime due esibizioni Credi che il tedesco potrà tornare in auge e competere per qualche vittoria in questa stagione? Grande prestazione di Vettel sia oggi sia a Monaco Per la vittoria a meno che non ci siano gare pazze la vedo dura Però questo podio è un podio che dà grandissima fiducia Poi Vettel ha dei punti di forza che nonostante questi anni difficili non ha perso E tra questi c'è la gestione delle gomme In una gara come quella di oggi dove la gestione delle gomme è determinante Vettel può dire la sua e puntare quantomeno al podio Quindi a meno che non ci sia un'altra Chissà, se ci sia un'altra gara pazza Perché no? Se devi andare a individuare il tuo ideale podio di giornata Chi sono i migliori tre per quanto visto durante la corsa? Quali piloti vai a scegliere? Assolutamente Perez è stato fenomenale È riuscito a artigliare questa Sua seconda vittoria in carriera Sì grazie al ritiro di Verstappen Ma anche resistendo per molti giri All'avere Hamilton dietro Che è una cosa che spesso a molti piloti li manda in confusione Grande gara assolutamente di Vettel Ne abbiamo appena parlato Gasly, solido, costante Ma una menzione d'onore la vorrei fare anche per Alonso Che abbiamo visto forse per la prima volta quest'anno A livelli più che buoni Mi stai anticipando? Ne parleremo in maniera approfondita tra poco Ti posso dire questo? Perfetto Perfetto Allora non amplio il discorso su Alonso Quindi direi che confermerei sostanzialmente il podio della gara E una menzione d'onore per Alonso Leclerc conclude quarto Non riesce a portare a casa il bottino pino Pur partendo dalla pole Il monegasco paga il deficit di passo gara della manoposto O in alcuni frangenti della corsa Poteva usare magari qualcosina in più? Penso che Leclerc ci abbia messo molto del suo in qualifica Le sue proverbiali insomma grandi prestazioni nel Q3 In gara effettivamente ma si sapeva che la Ferrari avrebbe avuto difficoltà E infatti è andato via via poi peggiorando a livello di posizione in gara Anche con le gomme è stato mi sembra il primo dei big a fermarsi Per sostituire le gomme Quindi io non imputerei a lui la responsabilità del risultato in gara Ecco magari nell'ultimo giro ma è molto facile ragionare col senno di poi Io a memoria non ricordo di piloti che dopo essere stati sorpassati Si rimettono i sci e riescono a risorpassare il pilota che gli aveva preso la posizione Magari nell'ultimo giro ci potrebbe essere una gestione un po' diversa Un po' più accorta degli attacchi a Gasly Sperando di poterlo poi bruciare sul rettilino finale Ma sono discorsi fatti col senno di poi E io direi che Leclerc per quanto fatto in qualifica E per quanto fatto all'inizio della gara Ha messo in luce un'ottima prestazione Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda E ti voglio far analizzare proprio la prova di Alonso a cui tu accennavi prima Il pilota spagnolo in grande spolvero conclude sesto Dopo aver messo a segno una ripartenza degna di un due volte campione del mondo Una volta risolti i problemi di affidabilità della sua vettura Fin dove può spingersi l'Alpine quest'anno? Come detto prima insomma Alonso Grande prestazione, grande gara Forse il primo grande Alonso che vediamo dall'inizio dell'anno Dopo la prima gara in Bahrain Poi è un po' faticato Dove può arrivare l'Alpine? Io guardo all'anno scorso La Renault con Ricciardo e Ocon Che si diceva insomma Che poteva essere la potenziale terza forza del mondiale Invece soprattutto nelle prime gare era spesso in difficoltà Salvo poi andare su quei livelli verso la fine della stagione Quindi se l'Alpine adesso dovesse ripetere il percorso fatto dalla Renault l'anno scorso Con un cospicuo miglioramento a stagione in corso Allora è possibile che in una delle gare probabilmente di fine stagione Con anche la complicità di qualche ritiro, di qualche situazione particolare Alonso possa anche artigliare il podio come ha fatto Ricciardo l'anno scorso Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata Ringrazio Francesco Fontana per essere stato insieme a noi Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata Ciao Francesco, grazie mille Ciao Andrea, ringrazio tutti gli spettatori Ringrazio nuovamente te per l'invito Ciao a tutti Ciao Francesco